Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. L'annuncio di un grande progetto con Tagba Bujukustun e Engina Kurek crea entusiasmo tra i fan. Sono già emersi i primi indizi sui dettagli di questo progetto a sorpresa, dove il celebre duo, uno dei nomi importanti del mondo del cinema e della televisione, ha deciso di riunirsi nuovamente con una nuova collaborazione. Tuba Bujukustun e Engina Kurek uniranno le forze in un nuovo progetto cinematografico che affascinerà il pubblico. Il nome della serie sarà Traces of the Past. Le magnifiche immagini e cornici di lavoro della nuova serie chiamata Traces of the Past sono condivise con i suoi fan. Queste condivisioni di giocatori di successo sui social media sono state molto apprezzate da tutti. Tuba Bujukustun ha condiviso con i suoi fan l'emozione di far parte dello stesso progetto con Engina Kurek. Tuba Bujukustun ha rilasciato una dichiarazione sull'argomento sul suo account Instagram e ha fornito indizi interessanti sul suo progetto con Engina Kurek. Tuba Bujukustun ha parlato della sua sincera amicizia con Engina Kurek e della loro armonia reciproca. Anche Tuba Bujukustun ha menzionato il suo ruolo nella vita di Engina Kurek. L'attrice Tuba Bujukustun-Engine è molto preziosa per me e mi ha supportato molto nella mia vita. Bujukustun ha parlato dell'entusiasmo del progetto e dell'argomento del suo nuovo progetto. I fan di Engina Kurek e Tuba Bujukustun volevano che la loro serie arrivasse sullo schermo il prima possibile. Vi presento le novità di Engina Kurek e Tuba Bujukustun, le cui nuove serie sono attese con ansia. Arrivederci! Ci vediamo nei nuovi video!